Che vergogna ragazzi, che vergogna, non siamo riusciti a vincere i 9 contro 11, ma veramente che vergogna, ennesima prestazione indeprorevole, vergognosi, 11 giocatori in campo vergognosi Lasciamo stare ragazzi il rigore, il non rigore inondata, a me ne mette un cazzo, tanto io su questa classe arbitrale scarsa ho il mio pensiero e continuo a ribadire che questa è una classe arbitrale che dovrebbe sparire dalla vita, alle viscere della terra Una partita bruttissima, abbiamo aspettato i famosi minuti di recupero per fare un gol giusto, i 9 contro 11, dopo quello che è successo Non ne voglio parlare, io voglio parlare solo di una cosa, per me la squadra è stata scandalosa, prestazione da vomito, tutti insufficienti in pagella Su Allegri non mi esprimo perché io Allegri lo difenderò e aspetterò la nuova stagione perché io non vedo l'ora, non vedo l'ora che finisca sta stagione Non vedo l'ora perché mi sono rotti i coglioni di incazzarmi, di bestemmiare per 11 mongoli in campo che non sanno manco rincorrono una palla e non sanno neanche cosa vuol dire giocare a pallone, giocare a calcio Io voglio dire una cosa ai cari tifosi seduti allo stadio, i cari clienti, voi dite che noi non siamo veri tifosi Noi siamo i veri tifosi perché ci incazziamo, ci incazziamo, tutto quello che volete, gioiamo, critichiamo, elogiamo eccetera 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 Ma voi cosa fate allo stadio? Oltre a stare seduti, a fare le belle statuine, i clienti e state zitti Cosa fate a differenza di noi veri tifosi? Un cazzo! Perché voi siete clienti che pagano e stanno zitti come delle pecore a vedere 11 scappati di casa Vi dovete solo vergognare e poi non venite in chat a scrivervi nei commenti, a fare la morale a noi Che noi siamo i veri tifosi della Juve perché a noi, noi a questa squadra, a questa città, ci teniamo più di voi Ci teniamo più di voi perché a me non me ne frega un cazzo di quello che pensate Perché noi, a differenza vostra, amiamo la Juventus, amiamo la Juventus a prescindere, a prescindere da chi allena Siete delle merde! Se avete i coglioni e se avete la dignità, cari clienti, non andate allo stadio Perché Agnelli non merita i tifosi, ma lui vuole solo clienti e voi siete i clienti Mentre noi, a differenza vostra, siamo i veri tifosi della Juventus Mettete like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, noi ci vediamo alla prossima E come sempre, fino alla fine, forza Juventus e andate a fare in culo, clienti di merda